Questa edizione sarà, spero, particolarmente divertente per una serie di motivi. Primo, con molto orgoglio, posso dire che il Trofeo Città di Sanremo è l'unico cittadino su tutto il territorio nazionale ad essere titolato dall'Axai, quindi questo per noi è motivo di orgoglio sicuramente. Altro aspetto importante è la provenienza di piloti da gran parte dell'Italia, tra cui addirittura quest'anno dalla Sardegna. Ma l'aspetto più divertente sarà sicuramente l'invenzione, chiamiamola così, che abbiamo adottato per questa edizione, che è una gara endurance aperta a tutti, quindi licenziati o non, che si svolgerà nella giornata del sabato. Abbiamo predisposto massimo 10-11 equipaggi, ogni equipaggio deve essere composto da minimo tre persone senza limitazione nel numero massimo. La competizione amatoriale, chiamiamola così, si svolgerà il sabato nella pausa pranzo con le prove libere, mentre alla fine delle prove libere delle categorie nazionali si svolgerà invece questo endurance vero e proprio che durerà due ore ininterrottamente. La caratteristica, la particolarità sarà il fatto che trattandosi di endurance questi go-kart gireranno ininterrottamente per due ore con il cambio pilota, rifornimento di benzina, tutte queste cose qua. Posso dirvi che abbiamo avuto grande successo, tante richieste, abbiamo purtroppo dovuto dir di no a tante persone perché abbiamo contenuto il numero dei partecipanti entro il limite dei 10-11 massimo mezzi. Mentre invece per quanto riguarda la gara nazionale, ripeto, gara nazionale titolata dall'Axai, quindi valevole per la Coppa di zona 1, che comprende quattro regioni, quindi Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Abbiamo il ritorno a Sanremo di piloti importanti, anche questo mi fa molto piacere, è sempre motivo di orgoglio perché grazie all'intervento, alla partecipazione di un costruttore che ormai al secondo o terzo anno che viene porterà con sé i propri piloti ufficiali, ragazzi che partecipano alle competizioni più rinomate a livello mondiale, quindi per noi è anche questo un piccolo traguardo, però molto importante per la nostra associazione e per la nostra manifestazione. La manifestazione si svolgerà sul lungomare Calvino e da Porta, no? Sicuramente sì, ormai è il nostro tracciato consolidato, lungomare Italo-Calvino, piazzale da Porto, il tracciato non subirà nessuna variazione rispetto agli altri anni, si partirà con le prove libere anche per le categorie nazionali il giorno del sabato, mentre la domenica sarà dedicata esclusivamente alla gara vera e propria, quindi gara 1 e gara 2, perché i nuovi regolamenti hanno previsto l'adozione di questa forma di gara presa un po' dall'automobilismo, quindi avremo due gare nella stessa giornata sostanzialmente, ovviamente dopo i tempi di qualificazioni che determineranno le griglie di partenza. Per questo appuntamento del 4-5 maggio chi volesse iscriversi? Come deve fare? Allora, iscriversi è semplicissimo, si va sul sito del nostro Karting Club, Karting Club Sanremo, si scarica tutta la modulistica necessaria, ci sono tutti i riferimenti, mail, numero di fax, numeri di telefono, ci può contattare tranquillamente, noi ben lieti di ospitare più partecipanti possibili.